la signora dei gomitoli arriva piano piano accompagnata da un profumo di cioccolata e di nuvole cammina portando con sé una valigia di cartone dove custodisce gomitoli speciali ognuno di loro racchiude una storia la signora è sempre in viaggio trova storie un po qua e un po là per le strade dentro i pozzi sotto i baffi dei gatti quando arriva in una nuova città passeggia osserva parla con la gente poi si siede in mezzo alla piazza solleva la valigia tira fuori i gomitoli li srotola e ne mette insieme 2 10 100 intreccia i fili e inizia a raccontare attorno a lei si radunano molte persone soprattutto bambini non perché le sue storie siano solo per bambini ma perché i bimbi si sa sono più attenti alla fine della giornata i gomitoli sono stati srotolati e le storie raccontate restano tanti maglioni di mille colori diversi che la signora regala a chi l'ha ascoltata in cambio riceve quello che la gente può darle una moneta un pezzo di pane una biglia di vetro una mattina per le strade di una bella città si sentì quel buon profumo di cioccolata e di nuvole i bambini lo riconobbero perché conoscevano la signora dei gomitoli e sapevano che l'avrebbero trovata in piazza lei era lì li salutò chiamandoli per nome mentre tutti si mettevano in cerchio per ascoltarla ma prima che la storia cominciasse una bambina molto piccola disse però gianni non è venuto chi è gianni chiese la signora è nuovo in città ma è sempre arrabbiato e se da solo prova a chiamarlo la bimba ubidì e corse via tornò poco dopo in compagnia di un ragazzino dai capelli mossi e dall'aria arruffata la signora dei gomitoli lo accolse con un sorriso come ti chiami e a te cosa importa borbottò il bimbo ognuno di noi è una storia da raccontare e per farlo si parte sempre dall'inizio dal nostro nome il ragazzino sussurrò gianni piacere di conoscerti gianni forse ho una cosa per te la signora frugò nella valigia di carta pesta e trovò un gomitolo solitario che non era riuscita a intrecciare con nessun altro prese i ferri e disse c'era una volta gli altri bambini si sedettero in cerchio in ascolto ma gianni rimase in piedi a braccia incrociate la signora sembrò non farci caso cominciò a sferruzzare e a raccontare una delle sue storie gianni si sedette e ascoltò prima malvolentieri poi sempre più incuriosito perché quel racconto gli ricordava qualcosa gli sembrava familiare e antico insieme gli sembrava che parlasse di tutti e che parlasse proprio di lui infine la signora dei gomitoli tacque la storia finì il filo era stato intrecciato e trasformato in un bel maglione colorato era ormai sera così tutti i bambini si alzarono per tornare a casa la signora prese il maglione lo diede a gianni e disse portalo con te è caldo e soffice e questo forse non cambia nulla ma cambia tutto da allora gianni aspettò il ritorno della signora dei gomitoli per tanti e tanti anni ogni volta che tornava in città la donna aveva con sé la sua valigia piena di nuove storie per lui e per tutti gli altri bimbi il tempo passava e gianni divenne adulto e ad ascoltare quelle storie straordinarie portò anche la sua ragazza che presto diventò sua moglie e poi i suoi figli e i figli dei suoi amici e i suoi amici stessi perché anche i grandi hanno bisogno di fiabe